Allora la notizia è che è uscito un nuovissimo prodotto della linea anticellulite Contracel, il fango tirassodo, è un prodotto che tonifica i tessuti, li compatta grazie alle glicoproteine del collagene vegetale, ma non solo, i fitoestratti venotonici, drenanti, bruciagrassi che contiene tirassodo aiutano a sostenere il microcircolo, quindi sono due azioni in un unico prodotto, è un fango che non si risciacqua ed è straordinario, ricchissimo proprio di principi attivi come l'edera, come la vite rossa, come l'acqua di verbena, insomma dovete provarlo assolutamente perché il fango tirassodo, tirassoda davvero. Ah, una cosa che non vi ho detto è che il fango tirassodo non è né caldo né freddo.